La sanità lombarda come punto di forza è sicuramente quello di essere la migliore sanità di questo paese perché noi non soltanto curiamo i nostri cittadini ma ogni anno rendiamo più di 180.000 prestazioni a cittadini che provengono da altre regioni e da altri paesi. La qualità dei servizi dei nostri ospedali è assolutamente eccellente. In tutto questo voglio inserire anche il discorso della grande collaborazione che ci viene data dalle farmacie e del grande contributo che i farmacisti hanno iniziato a darci in maniera strutturale. I farmacisti sono ritornati ad essere un punto fondamentale dell'organizzazione sanitaria lombarda. Il punto di debolezza purtroppo sta nella carenza di risorse umane. La cattiva programmazione che risale a qualche anno dagli ultimi 15 anni ci ha portato in questo momento particolare ad avere pochi medici e pochi infermieri. Questo governo si è accorto della situazione e sta dando una risposta. Purtroppo per avere una risoluzione ci vorranno un po' di anni ma sicuramente ci stiamo attrezzando. E mi lasci dire infine che un altro aspetto importante della nostra sanità è che stiamo predisponendo tutto quanto necessario per rendere più vicino ai cittadini le risposte più territoriali senza dover accedere ai grandi ospedali.